Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e oggi nuovo volo con il Mavic Air. Dopo tanto tempo che non lo utilizzavo per fare un video cinematografico, oggi è arrivato il suo turno. L'ho portato qua nella Val di Mello, un posto veramente affascinante dal punto di vista panoramico e della natura veramente veramente top. Quindi adesso passeggiata nella Val di Mello e dopo decogliamo. Ragazzi, questo è il lago della Val di Mello, adesso è completamente asciutto, faccio vedere. Guardate ragazzi, è completamente asciutto. Perché in questa stagione l'acqua non c'è, poi quando i ghiacciai si sciolgono, ritorna pieno d'acqua. La cosa bella di questo lago è che ha l'acqua veramente trasparente e di un colore azzurro-verde con tutti i pini qua intorno che si riflettono nell'acqua. Infatti questo laghetto è chiamato anche bidet della Contessa, giusto per farvi capire che solo una Contessa poteva venire a fare il bidet in un posto così figo. Quindi ragazzi, adesso continuiamo la passeggiata e poi troviamo una location e decogliamo con il Mavic Air. parte Ponte P nationale Hai un grande assassino ad hoc, carta segna a carci go, ben si imparere i 방 satis wall. Ok ragazzi, ho trovato la location, adesso preparo tutto e finalmente possiamo decollare in questa fantastico panorama e fantastica location che è la Val di Mello. A lost my mind in December, I hope you're well, but all I know is what I'm told, this feeling cannot be controlled, I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast, they are for told. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast, they are for told. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast, they are for told. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast, they are cast, they are cast, they are cast, they are cast. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast, they are for told. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast, they are for told. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast, they 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 are cast. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast, they 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 are cast. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast. I watch the stars when I am gone, how faith in me we will behold, the skies are cast. I will say that even if I am not using it, how do you use it, how do you use it, how do you use it? I will say that it is so great that even if it is used for years, how do you use it, how do you use it? How do you use it? How do you use it? So, my friends. As usual, if this video is here, I am. If this video is here in the Val di Melo with my bike, if you liked it, I is like a big thumbs up. iscrivetevi al canale Telegram Offerte non so se sentite mia figlia che mi chiama arrivo che mi chiama che dobbiamo andare dicevo iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video e neanche un volo ci vediamo nei prossimi video ciao